ciao a tutti io sono padre e oggi vi farò vedere un nascondino da fare assolutamente al nascondino come di tutto andate questo bordino tutto rosso andate qui papà papà che vorrei andare a vedere? da, andate subito piccolite è completamente invisibile ai vostri amici guardate invisibile delle vere spie se fate questo lavoro le spie aspetta spie vedi vedete questo è un luogo molto perfetto non vi dimenticate il vestito da gente segreta mettete questo poi qui avete presente gli occhiali ecco questi e sarete ben pronti bambini intanto giochiamo un po' a Brookhaven a Brookhaven con un po' di vestiti di Moderna per chicco per chi per chi